le previsioni meteo di giovedì 16 novembre al nord cielo poco nuvoloso ovunque qualche nube in più al nord est ma in un contesto generalmente asciutto al centro maltempo con piogge temporali sulle regioni adriatico centro meridionali abruzzo e molise nubi sparse sulla sardegna al sud è diffuso maltempo su buona parte delle regioni piogge più intense sul nord della puglia e sull'entroterra campano occasionali temporali sul reggino e sul salento venti deboli da nord est mari mossi temperature fredde al nord stazionarie sul resto della penisola